Assessore Telesca, oggi a Mugia si attua uno dei principi della riforma sanitaria. Sì, oggi qui con anche il completamento di una parte di tecnologia che è utile per la medicina di famiglia si è realizzata una prima parte di quello che prevediamo nella riforma sanitaria e cioè un centro di assistenza primaria con tutte le caratteristiche. Abbiamo visto i medici di famiglia che lavorano insieme al distretto molto bene, oggi qui è presente anche una parte ospedaliera, il direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio quindi quella integrazione che noi promuoviamo con la riforma per fare un centro di assistenza primaria sul territorio che dia ai cittadini tutte le risposte che servono sul territorio e quindi vicino a casa. Qui i cittadini trovano molte, moltissime risposte per le problematiche quotidiane di salute che affliggono i cittadini. Oggi sono stati anche illustrati i dati di come questo tipo di sanità, quindi con la medicina d'iniziativa, possa migliorare proprio la qualità della salute dei cittadini, prevenire anche nella cronicità i problemi acuti.